Salviamo la nave, vai salviamo la nave! Attenzione, collisione imminente con la superficie del pianeta, trasmetterò il conto alla rovescia per avvertirvi del tempo rimasto prima dell'impatto. Ma che missione è? È un N7. Proviamo. Allarme giallo. Grazie a tutti. Ah, ho tempo. Ho del tempo. Ah, spiegaci. Oh 1200 bravo Allora Stato alla navigazione Stato alla navigazione Ok Ah forse questa me la ricordo Non so come mai ma me la ricordo No Shepard ti devi abbassare Posso nientarvi tutti Aia Maronne Eh che bravo però Ogni tanto le cazzate le faccio Ma sono proprio bravo Tu? Ma vaffanculo Vediamo se riesco Tec Tato Olè Olè! La borsa! Via! Ok, via però dove? Qui? Spondare? Questa è un pozzo! che devo fare tornare indietro però io non so che cazzo devo fare non so che c'è l'ho riavviato ma non va una sega gunda da un'altra parte forse no cioè io vado giù ok andiamo giù ah ma vaffanculo ma vaffanculo oh 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 che succede finita qui la missione ecco qua